Il calcio mercato, il Pescara ha chiuso col Bari per il prestito secco di Carlo De Rizio, trentenne centrocampista originario di Vasto, c'è l'accordo totale tra i due club, c'è anche e soprattutto il gradimento del calciatore, manca naturalmente solo la firma, il gradimento del calciatore dicevamo che ritrova Auteri alle cui dipendenze De Rizio è stato lo scorso anno a Bari e a Catanzaro nelle due stagioni precedenti, conferme anche da parte del Bari, abbiamo sentito il DSC Ropolito nel pomeriggio che ci ha confermato il buon esito di questa trattativa, centrocampista di gamba di buona qualità, con geniale al 3-4-3 affiancherà in mediana Pompetti, tanta C alle spalle, Benevento, Martina, Juvestabia, Padova, appunto Catanzaro e Bari trascorsi in Abruzzo nel Celano in C2 da gennaio a giugno 2012, 12 presenze, un gol in B, 6 mesi ad Avellino nella seconda parte della stagione 2017-2018 con 15 gettoni, a Bari De Rizio era rimasto ai margini della prima squadra, poi reintegrato dal tecnico Mignani, soltanto 7 minuti in campo contro la Vibonese, ultima gara da titolare lo scorso 23 maggio, andata dei play-off contro la Feralpi Salò, arriverà a Pescara la prossima settimana, bisognerà nel contempo sfoltire la Rosa, centrocampo sono in uscita, lo ricordiamo Rizzo, Valdifiori e Sanogo che tornerà al Benevento, ai saluti anche Frascatore, Galano, Bocic e Marilungo, il portiere Radaelli che si trasferisce a titolo definitivo all'Alcione Milano che milita nel campionato di Serie D, domani primo giro di tamponi per l'intero gruppo squadra, sabato primo gennaio, nel pomeriggio il primo allenamento del 2022, una settimana dopo, sabato 8 gennaio, ore 14.30, Pescara-Carrarese, seconda giornata del girone di ritorno ai margini, lo ricordiamo per squalifica, Pompetti e Ijanes.